Francesca e Riccardo portano per la prima volta il piccolo Edoardo al mare e sembrerebbe che gli piace più della montagna. Ciao Edo, sei pronta ad andare in spiaggia? La spiaggia è da quella parte. Oh, ciao! Ti piace la spiaggia amore? Sì, è bella vero? Si sta bene! Eh, bellissima! Sì, che bello! Edoardo con gli occhiali è uno splendore e poi è sempre calmo calmo e sorridente. Bello di casa! Sì, che bello! Sì, che bello!